vi presento Mimì è una leonessa in miniatura, tutta greca tu le metti la sua piumettina e lei diventa mappa è vero cominci che mi ha la regina del camper è una cacciatrice ma che mamà ma che mamà cos'è quella cosa? questa meravigliosa Soriana la trovata a Piacenza vicino alla centrale nucleare di Caorso perché non vuoi andare su YouTube? dimmi perché vispa, simpatica ne combina di ogni serampita su questa torre qui ribalta la dinette fa di tutto e di più cerca sempre di fare qualche danno la mia mici è vero che fa i danni miciotti è un po' matta va giusto adesso lì che sta ravanando qualcosa non lo so non lo so però è non voglio di giocare io invece dico di sì eccola qua era esattamente così bella miciotti ormai a 7 mesi e non è sterilizzata quando l'abbiamo trovata fuori dal camper che ci guardava di così mi guardava fisso negli occhi puntavo come dire oh io voglio entrare qua dentro io l'ho guardata mi si è sciolto il cuore ho detto va bene e adesso è qui che mi guarda e dice ma cosa serve quella macchina fotografica li butta la via e gioca con me se c'è ragione che nella compagnia è simpatica ti osserva con questi occhioni qua che dice ma cosa c'ha negli occhi questo non c'ho gli antichi dicevano che i gatti erano sacri per gli egiziani addirittura se non vado errato in questo affermavano che potessero vedere il passaggio dalla vita alla morte certo sono leggende ma di solito dentro le leggende c'è sempre un pizzico di verità e spesso mi è capitato di sentirmi giù di morale a volte molto giù di morale lei è arrivata e ha sentito che comunque stavo male stavo male dentro di me si è piazzata letteralmente su di me come a volermi curare come ha tolto le unghie ha tolto i suoi denti è cominciata a curarmi nonostante sia cuccio probabilmente distinto di mamma è una grande soddisfazione averla una grande soddisfazione ti do un bacio grande ciao 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 ciao